Alle amministrative siamo determinanti, così al Tg1 il leader di alternativa popolare Angelino Alfano che in vista dei ballottaggi di domenica dice le elezioni si vincono sempre al centro. L'intervista è di Angelo Polimeno. Olorevo Alfano, saranno cento destra e cento sinistra i protagonisti del maggior numero di ballottaggi. A questo punto qual è il ruolo del centro? Da Monza alla Spezia, da Genova a Catanzaro noi siamo stati importanti e a volte determinanti siamo stati inseguiti anche per gli apparentamenti a testimonianza che queste elezioni come le prossime si vinceranno al centro e dunque noi stiamo proprio per questo organizzando una proposta moderata, liberale e popolare che nasca dai territori e queste elezioni amministrative servono anche a questo. Dal lunedì inevitabilmente si parlerà di alleanze. Qual è la sua strategia? Si guarderà più adesso o a sinistra? Io credo che milioni di italiani non ne possano più di una destra che urla e che ci vuole fare uscire dall'Europa e che cita sempre la ruspa e neanche di una sinistra dell'indietro tutta, litigiosa, inconcludente. Ecco noi ci rivolgeremo a questi italiani con una proposta indipendente, autonoma che abbia come bussola il buonsenso e come missione la difesa del ceto medio. Ora il caso Consi.